Ancora sbarchi e nuove operazioni di soccorso. La nave Ocean Viking di SOS Mediterranea ha salvato 114 migranti a largo delle coste libiche, tra i sopravvissuti, molte donne e diversi bambini. Il più piccolo ha appena 11 giorni. Era nato a bordo dell'imbarcazione. Tutti i piccoli stanno bene e fanno sapere i medici che stanno assistendo i naufraghi anche se hanno bisogno di cure. Intanto sono stati portati a Lampedusa gli oltre 100 migranti partiti diversi giorni fa dalla Tunisia.